ok let's check nessun buio ok that's good how much money do I have come on ok ok that's better usually we don't have much return on investment here because the investments that you have to do are limited ok let's upgrade ok adjust 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 ok 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 un po' di 1,000 euro Grazie. 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 di bella no, definitivamente I know I was going to use a lot in CD's. Power drop. I know you're not going to use a lot. Andro velas. si non ci sono i tundra bandit, non luttos, ma il tundra bandit, ok, io posso fare l'idea non ho la città, non c'è un po' di più, ok, è un po' di più, ok, è un po' di più Let's get close to those ones Let's go Let's go Let's go Let's go Who's dead? Who's dead? One knight? How? He managed to death kill Let's go 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 come on better take no there are lot of cavalry 68 oh come on ah here we are 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 one better we are 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 Grazie. 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 Oh 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 Come on Shut this Okay, that's it 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 Grazie. 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 Ok. 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 E' ancora impraveno. Ok. Ok. Ok.